Tragico incidente avvenuto ieri intorno alle 13 sulla strada provinciale Sommatino-Riesi. A perdere la vita Gaetano Malacasa, un nisseno di 42 anni coniugato, l'uomo si trovava a bordo della sua moto quando per causa ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. Gli operatori del 118 recatisi immediatamente sul posto non hanno fatto altro che accertare la morte del giovane. Malacasa amava le moto e il motociclismo, ma proprio su una e due ruote ha trovato la morte. Tante le attestazioni di solidarietà da parte dei suoi amici, molti dei quali hanno scritto parole di cordoglio e incredulità sulla sua pagina Facebook. Ci lascia un grande amico, si legge in un post, un grande uomo e padre, una bella persona, sempre onesta e sorridente. Rimarrai nei nostri cuori e nei nostri ricordi.